Iside Cos'è dobbiamo dire? In giro sai cosa c'è il? Virus Giusto Che è molto? Cos'è il virus è? Iside Pericoloso Giusto Quindi cosa dobbiamo fare noi? Per restare chiusi in casa Giusto? Perché andrà tutto bene se Iside Andrà tutto bene se Restiamo a casa Confermate? Non tu loro Tor conferma Bosco conferma Genso confermi Genso Che dobbiamo stare a? Ce lo dice anche Bowie A casa Sì sì Iside Torno da te Dobbiamo stare A casa Ve lo dice anche Bowie Sì Iside Non mi picchiare Bowie diglielo Dobbiamo stare A casa Sì 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 sì